Ieri eravamo nella cella di Padre Pio, abbiamo sostato in quel piccolo spazio dove lui ha vissuto dall'ottobre 1907 a novembre 1908, ha studiato teologia, ha meditato, ha sofferto perché anche se qui ancora, come dicevamo, il suo mistero non era svelato ancora del tutto, lui lo viveva dentro di sé. E ieri eravamo lì, nella sua cella, oggi siamo nella chiesa, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, qui dei frati Cappuccini, di Serra Capriola. E vogliamo mettere il punto, ahimè, ve lo dico proprio con dispiacere, su questa enciclica del telefono di Papa Francesco. Questo Papa che ha e che continua, perché sono convinto che tante, tante telefonate, tante lettere non si sanno, ed è bene così, continua con la sua semplicità a far toccare alle persone la tenerezza del Signore. Si è saputo che quando ha chiamato, era ancora viva l'allora segretario di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, Monsignor Loris Capovilla, in una telefonata con lui, Papa Francesco gli ha chiesto di pregare Papa Giovanni perché lui potesse diventare più buono. Lui pensa a un suo predecessore, a un Papa e chiede di diventare più buono. Vedete, quando la consapevolezza dei propri limiti, dei propri peccati, delle proprie miserie, ti fa chiedere la bontà, ma non quella soltanto umana, è la bontà che viene dal Signore. Preghi Papa Giovanni perché io possa diventare più buono. E noi vogliamo pregare per il Papa perché possa diventare più buono, ma anche per tutti noi perché possiamo diventare più buono. E oggi voglio chiudere con una piccola storia, una storia che sembra semplice, una storia che forse riterrete ma in maniera sbagliata meno importante delle altre. Iole e Paolo sono una coppia di Catanzaro, Paolo Budaci, scrivono al Papa perché hanno il desiderio di portare la croce durante la Via Crucis. Però dice, se non è possibile, caro Papa Francesco, vorremmo incontrarla per partecipare almeno con lei in un'altra occasione e raccontarla, raccontare a lei la bellezza dell'amore familiare. Una famiglia che scrive al Papa per portare la via, la croce durante la Via Crucis, che solitamente si fa nella Settimana Santa al Colosseo a Roma, e poi dice, se proprio non è possibile, vogliamo raccontarti la storia del nostro amore e della bellezza della nostra famiglia. Era gennaio del 2016. All'inizio della Settimana Santa del 2016, lunedì santo, Suor Maria Pia, che è una suora dell'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Papa, chiama questa famiglia e dice, il Papa ha letto ora la vostra lettera e ha deciso di farvi portare la croce, se per voi va bene, la quarta stazione, durante la Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo. Bene, questa famiglia ha portato la croce e l'ha portata il Venerdì Santo. Vedete come il Papa sa dare attenzione a tutti, perché la tenerezza non fa preferenza di persone o di situazioni. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao! Grazie a tutti!